Perché scegliere l'Università di Torino? Questa è la domanda che si fa a ogni studente potenziale che entra alle giornate dell'orientamento. La risposta è perché l'Università di Torino è un'università con una lunghissima tradizione e di eccellenza sia nella formazione sia nella ricerca. E' altissimo il numero di corsi di studio che offriamo nei diversi campi e basta leggere le valutazioni del MIUR come quelle del Censis e come tante valutazioni fatte a livello internazionale per capire l'eccellenza dei nostri corsi. L'Università di Torino ha inoltre il vantaggio di essere a Torino e quindi di essere in una città in cui la numerosità degli studenti, 100.000 studenti in una città che ha meno di un milione di abitanti, vuol dire una città dove la vita degli studenti è molto facile, molto importante per lo sviluppo della città e quindi seguita con attenzione anche dalla città stessa. La scelta di un corso di studi all'interno della nostra offerta formativa non è facile e quindi è importante dal nostro punto di vista cercare di fornire allo studente molti mezzi per orientarsi. I mezzi vanno da una nuova app che presenta tutti i nostri corsi e permette allo studente di fare una specie di test orientativo su se stesso per vedere quali sono i corsi di studio che probabilmente sono più adatti a lui, accompagnato da attività più tradizionali, quali stand informativi, quali presentazioni delle varie opportunità offerte, quali tutta un'attività di porte aperte nei diversi dipartimenti che si svolgeranno dopo le giornate dell'orientamento e fino alla chiusura delle nostre iscrizioni. Che consiglio darebbe uno studente che sta per intraprendere una carriera universitaria? Il momento in cui a 18-19 anni si sceglie la carriera universitaria è un momento importantissimo perché non è soltanto una scelta che impegnerà per i prossimi 3-6 anni ma è una scelta che impegnerà tutto il futuro dello studente e quindi io credo che la cosa più importante da dire a un ragazzo o una ragazza che è in questa fase della vita è di dedicarci tutto il tempo necessario, è una scelta estremamente importante quindi bisogna riuscire a capire bene quali sono le proprie potenzialità, le cose che uno ama fare e quindi sa fare bene, analizzare bene i propri desideri e solo successivamente scegliere il corso di studi. Non è una scelta per tre anni, è una scelta per la vita, è una scelta per mettersi in mano e per dedicare a se stessi l'opportunità di svilupparsi per tutta la propria attività lavorativa che è una parte così importante della propria vita che merita di spendere tempo su questo argomento.